Presidente, congratulazioni innanzitutto questa nomina all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale di Associazione Trasporti. Che esperienza sarà per lei, ma soprattutto la ricaduta sul nostro territorio per quanto riguarda il trasporto pubblico locale? Ringrazio innanzitutto te per i complimenti ed è un grande riconoscimento, prima ancora che personale, per l'area di Taranto, il territorio di Taranto, per l'azienda Chima Mobilità, un riconoscimento importante a livello nazionale, nel direttivo di Astra, che è stato possibile grazie anche al contributo che l'amministrazione Melucci ha sempre dato, non ci ha mai fatto mancare, ad esempio negli ultimi tre anni con i nuovi bus che ci ha fornito, tutti dotati di aria condizionata, pienamente efficiente, mezzi elettrici, o ancora il progetto di bibliotezione elettronica che è partito da poco, sono tutti questi dei progetti e delle attività che stiamo mettendo in campo e che adesso finalmente hanno anche la ribalta nazionale.